Il giorno dell'addio a Marta Marzotto è arrivato e si è consumato tra commozione ed eleganza. Rose e fiori bianchi hanno ingentilito una bara semplice e spoglia, portata a spalla da Pier Casiraghi e dagli altri nipoti della contessa stilista. Per Marta Marzotto, funerali sobri e misurati. La regina dei salotti si è spenta 85 anni dopo una breve malattia e a darle l'ultimo saluto, lunedì 1 agosto, nella chiesa di Sant'Angelo, tanti VIP oltre che ai quattro figli Paola, Matteo, Diamante e Carlo Alberto e alle nipoti accompagnate dai rispettivi mariti. Insieme a Beatrice Borromeo sono state avvistate anche Lavinia, Isabella e Matilde, ma l'ex modella e giornalista è apparsa la più commossa e dispiaciuta. Più volte la Borromeo ha versato lacrime sul feretro della nonna, confortata a tratti dal marito Pier. Soltanto qualche mese fa, a febbraio, la conduttrice aveva postato sui social una foto in cui abbracciava la nonna Marta Marzotto e le faceva gli auguri di compleanno, segno che le due contesse erano estremamente legate. Tra i personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, della moda e della cultura, sono venuti a rendere omaggio alla stilista anche Emilio Fede, Vittorio Feltri, la collega Anna Molinari, fondatrice del marchio Blue Marine, e ancora Valeria Marini, Lele Mora, Paolo Kessisoglu e lo chef Gianfranco Vissani. In chiese è fuori ad aspettare per un ultimo applauso anche molte persone comuni, tra cui tanti giovani, affascinati chissà dall'ineguagliabile voglia di vivere di Marta Marzotto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.